Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, questi sono piccoli esperimenti sul mio canale per vedere quanti di voi si rilassano con i video ASMR. Oggi vi dedicherò dei piccoli rumori mentre voi cercate di rilassarvi, se vi piacciono questi video non dovete fare altro che cliccare, 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 cliccare. su iscriviti e cliccare sulla campanellina, così sarete sempre avvisati ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie. 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 Vi è piaciuto questo suono? Vediamo se riesco a farvi rilassare ancora. Noi. 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 c'è il mio cane che mi gira intorno e anche il mio cane si sta chiedendo se sono impazzita perchè non mi ha mai visto di fare questi video rilassanti, come faccio a spiegare al mio cane dei video a Asmir? non mi ha mai visto il tuo Sturmore Sì spero che questi piccoli suoni mi facciano rilassare c'è il nostro corso gratuito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sarà buonissimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonissimo. Grazie a tutti. Mi raccomando, cliccate, 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 cliccate mi piace. Vi saluto, buona giornata, buona giornata, al prossimo video.